75 anni fa il rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Un monito permanente, scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio. Un richiamo ad operare ogni giorno per svuotare i depositi di intolleranza. Sentiamo Sonia D'Ottavio. Una ferita insanabile per la comunità ebraica e per l'intero popolo italiano. Per il capo dello Stato la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma è un monito permanente. La Costituzione Repubblicana, spiega Sergio Mattarella, contiene tutti i valori che vennero sopraffatti 75 anni fa, a partire dall'inviolabilità dei diritti di ogni persona. La lotta alle discriminazioni e all'odio razziale, tema caro al capo dello Stato che due anni fa, lo vediamo nelle immagini, visitò il ghetto di Roma. Anche in quell'occasione parlò di lezione della storia. 2.000 ebrei italiani, tra loro 200 ragazzi. Fu, scrive oggi Mattarella, l'inizio di una caccia spietata favorita dalle leggi razziali varate dal regime fascista. Pagine oscure del nostro passato che vanno richiamate alla conoscenza e alla riflessione delle giovani generazioni. Il presidente della Repubblica ricorda la promessa solenne, quelle parole mai più che, chiarisce, vanno rinnovate di continuo. Allo stesso modo, dice, ogni giorno siamo chiamati ad operare per svuotare i depositi di intolleranza. Un lavoro che serve a frenare le tentazioni di sopraffazione e ad affermare il principio di uguaglianza tra le persone.